No, con Raffaele Fitto stiamo cercando di fare, io credo, un'opera intelligente per Forza Italia e anche per Silvio Berlusconi, nonostante qualche cattivo consigliere dica diversamente. Noi vogliamo ricostruire un centrodestra davvero alternativo a Matteo Renzi, che scommetta su quello che abbiamo fatto troppo poco in questi mesi, cioè fare opposizione a Renzi dicendo meno tasse, meno spesa, meno vincoli europei. Il centrodestra deve tornare alternativo e competitivo, altrimenti se, come è accaduto per un anno, si dice a Renzi sempre e solo sì, sono i nostri elettori che se ne vanno.